Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei, il padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro, in verità, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Tutto il segreto dell'umanità di Cristo è contenuto nel rapporto col padre. Lui e il padre sono sempre insieme e sono una cosa sola e l'opera che il padre fa nei confronti del figlio è l'amore, cioè lo Spirito Santo. La Trinità dunque è il grande abbraccio nel quale inizia ogni vita e ogni giornata. Chiediamo che sia il grande abbraccio nel quale inizi anche ogni nostra opera a partire da quelle di questa giornata perché realmente facendo viviamo, vivendo amiamo e amando possiamo incontrare Dio. Non c'è cosa più grande e urgenza più necessaria che questa nella nostra vita e nella vita delle persone che incontreremo. Buona giornata alla scoperta della Trinità.